L'immutabilità è un'illusione, la fine è un'illusione, la trasformazione è realtà. Il pianeta Nibiru causa cambiamenti climatici, eruzioni vulcaniche e terremoti. Nuovo documento riguardante Nibiru dell'8 febbraio 2012. Annuncio molto importante, nuovi terremoti nella primavera del 2012 negli Stati Uniti d'America, California, Italia e l'area mediterranea. Successivamente le creature extraterrestri torneranno dal pianeta Nibiru. Bye bye!